In questa puntata, Piano regionale su rifiuti e bonifiche Vinicio Berti in mostra Progetto Polis di Libera Toscana La seduta del Consiglio regionale dedicata all'informativa della Giunta sul piano regionale su rifiuti e bonifiche si è aperta con un colpo di scena. I gruppi di opposizione, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto, Toscana Domani hanno infatti abbandonato l'aula prima che l'assessore Monia Monni presentasse l'informativa. Oggi abbiamo assistito a una innovazione statutaria, di fatto durante la offerenza di programmazione dei lavori il segretario generale ha dato ragione alla minoranza e aveva presentato una pregiudiziale per violazione dell'articolo 48, ovvero sia quando la Giunta fa l'informativa deve farlo prima di avviare formalmente ogni altro tipo di attività. In questo caso invece, trattandosi del piano di rifiuti di un atto di governo del territorio, è già stato avviato contemporaneamente all'invio dell'informativa al Consiglio sia la procedura di VAS che l'avvio formale del procedimento ai sensi della legge sulla pianificazione urbanistica. Noi l'abbiamo denunciato questo errore che rischia di minare anche la legittimità formale del procedimento di formazione del piano dei rifiuti, ma evidentemente per la maggioranza del PD conta più il parere dei dirigenti della Giunta piuttosto che quello del segretario generale del Consiglio regionale. Sicuramente siamo di fronte a un vulnus, come è stato detto, assolutamente evidente. Un vulnus che riguarda proprio l'equilibrio tra Consiglio e Giunta, che in questo momento si è totalmente disperso. Per quanto riguarda le iniziative formali è chiaro che questo dovrà essere condiviso con tutti i capigruppo. È evidente che ci auspichiamo quantomeno che sia formalizzato il parere del segretario generale. La comunicazione che è arrivata a settembre di fatto è la stessa cosa che oggi sta dicendo l'assessore Monni dopo mesi in aula. È evidente che finché noi non abbiamo degli elementi che mancano totalmente, infatti noi contestiamo fortemente anche la mancanza di elementi per dare una valutazione a quello che sta facendo la Giunta, diventa per noi complesso anche sapere come muoverci. Il tema è uno, secondo me. A inizio di questa legislatura Eugenio Gianni disse chiaramente che lui voleva collaborare con le opposizioni. Ecco, sta facendo l'esatto opposto. Allora trasformi, infatti, quello che lui aveva promesso a inizio legislatura, perché in questo momento lui sta depauperando il Consiglio delle proprie competenze e dei propri diritti. Non ci sarà nessun effetto reale per il modo in cui è stato portato avanti. Quindi il nostro punto di vista è tecnico, politico innanzitutto. Dal punto di vista dei contenuti poi ci riserveremo di fare tutte le nostre osservazioni quando sarà riportato nel giusto binario questo percorso legislativo. Ve lo ripeto, sta succedendo una cosa molto grave in questo dei Consiglio. La Giunta ci sta imponendo delle forme e dei modi che non ci sono propri e chiediamo al Presidente del Consiglio di tutelare tutti i consiglieri regionali. Maggioranza e opposizione. Opposizione che oggi è qui a protestare fondamentalmente per questo. Quanto è successo è di una gravità assoluta e non ci consente di sentirci più garantiti nello svolgimento dei nostri ruoli. E chiaramente non soltanto in qualità di consiglieri, ma anche della rappresentanza che abbiamo all'interno della Regione Toscana come elettorato e come consenso. Ci dispiace vedere succedere questo soprattutto anche sostanzialmente nelle parole di un uomo che prima di essere governatore della Toscana è stato anche il Presidente del Consiglio. Noi al di là di quello che abbiamo annunciato come opposizione vorremmo che coloro che si fanno interpreti e principi del dialogo facessero un po' meno teoria e tornassero un po' alla pratica. Non è possibile fare governance su questioni come quelle dei rifiuti senza parlarne. Sono argomenti questi che devono essere dibattuti, devono mettere nelle condizioni tutta la rappresentanza espressa dal corpo elettorale di questa Regione di prendere decisioni che interessano il proprio presente e il proprio futuro. Al momento non ci siamo, non ci siamo più. Per questo siamo usciti dall'Aula e nonostante il nostro impegno istituzionale in questo primo anno e mezzo costruttivo e propositivo ci sentiamo anche veramente non rispettati. Naturalmente quando vi sarà il momento entreremo nel merito dei rifiuti ognuno di noi con le posizioni, come ha detto prima bene la Presidente Galletti, diverse perché abbiamo posizioni diverse, ma su un principio tutti quanti condividiamo il nostro stare in Consiglio, essere consiglieri regionali e rappresentanti dei cittadini. Che se vi è anche soltanto un dubbio che le procedure non sono corrette o le procedure ci fermano o non avranno mai il consenso delle opposizioni. Perché per noi la legalità, l'onestà viene prima. E soprattutto viene prima il rispetto nei confronti degli elettori che ci hanno mandato qua perché siamo pronti a tornare a casa con la nostra consapevolezza di aver fatto le cose per bene. Ma un passaggio importante che consolida la maggioranza tra Partito Democratico e Italia Viva, sostegno della Giunta, inizia ed entra nel merito la discussione sul piano dei rifiuti. I nostri indirizzi sono un atto fondamentale, che consentiranno di indirizzare l'attività verso il riutilizzo dei rifiuti. La transizione energetica deve essere un elemento portante al riutilizzo delle materie, deve diventare un elemento determinante in una logica di economia circolare, soprattutto la produzione di nuove fonti di energia sempre da rifiuti, l'utilizzo delle aree industriali, ma soprattutto un doppio livello di verifica che possa essere locale insieme a quello di carattere regionale. Pensiamo alla possibilità di assumere decisioni solamente se c'è un doppio livello di condivisione. Questi sono alcuni degli indirizzi che abbiamo portato in aula, dentro una discussione che ha trovato la maggioranza compatta, a sostegno di una discussione che ci vedrà impegnati nei prossimi anni. Questo è uno degli atti più importanti che questa legislatura dovrà approvare e ci vogliamo misurare come atto di governo rispetto agli impegni assunti con i cittadini toscani. Nel merito noi abbiamo detto cose chiare, apprezzando e ringraziando anche l'assessore per la sua comunicazione. La Toscana ha bisogno di anticipare quelli che sono gli obiettivi dati dall'Europa per quanto riguarda la raccolta differenziata e per quanto riguarda il riciclo e il riuso dei rifiuti. Ha bisogno di una dotazione impiantistica che la renda autosufficiente non soltanto come regione ma anche nei vari territori, con un occhio anche ai rifiuti speciali che vengono prodotti dalle nostre aziende per dare quindi una risposta in termini anche di competitività, di bilancio ambientale ai rifiuti speciali che da lì provengono. Un'attenzione particolare alla sostenibilità delle tariffe perché le famiglie, ovviamente, soprattutto in fasi difficili come queste, hanno comunque bisogno di non essere ulteriormente gravate. Nel percorso che si è aperto da questa mattina, dalla collaborazione tra la Giunta e il Consiglio regionale, sicuramente la Toscana avrà la dotazione di questo importante strumento di programmazione e pianificazione che sarà molto utile ai cittadini, alle imprese, al suo sistema economico e sociale. Oggi inizia il vero lavoro in collaborazione con l'assessore Monni. La commissione quarta che presiedo sarà la sede nel quale ci confronteremo con chi proporrà impianti, con gli ato, con i gestori, con tutti i soggetti che avranno attraverso la commissione la possibilità di dar voce rispetto alle osservazioni di questo piano. Rappresentiamo i territori, rappresentiamo i cittadini, rappresentiamo le imprese, quindi è risultato stamani anche un po' strano a tutti, forse perché non conoscono ancora bene il ruolo del Consigliere regionale e l'atteggiamento delle minoranze. Hanno abdicato al ruolo di fare proposte e di porre correttivi. Questo secondo noi è abbastanza grave. Spero che in commissione con loro, con le minoranze presenti, cambi un po' il clima e anche loro, che vengono da territori molto complessi, diano il proprio contributo. Noi lo faremo, l'abbiamo sempre fatto, insieme all'assessore Monni e alla Giunta porteremo le stanze di cittadini ed imprese. Dico una cosa che ebbe modo di dire da assessore regionale all'ambiente. La Toscana, sui temi dell'economia circolare, può essere davvero terra d'avanguardia e la comunicazione fatta dall'assessore Monni, che ringrazio anche per aver chiamato l'eredità venuta dallo scorso mandato, ci dice esattamente che questa è la strada da seguire. È una regione che è dotata prima in Italia di una legge sull'economia circolare moderna, attuale e che oggi intende interpretare quelle che sono le spinte europee, con un occhio all'innovazione, volendo dare risposte concrete non solo ai cittadini, ma anche ai nostri sistemi produttivi che stanno soffrendo. Dobbiamo ridurre fortemente il conferimento in discarica e questo lo si fa aumentando la raccolta differenziata e investendo sulle nuove tecnologie. Questa è la sfida vera. Quindi il nostro sarà un piano sicuramente ambizioso, impegnativo, partecipato, come ha detto l'assessora, e per questo siamo ovviamente attoniti dal fatto che l'opposizione abbia preferito, invece di entrare nel merito della discussione, trincerarsi dietro una sterile propaganda, evidentemente perché assente di argomentazioni concrete. Ne prendiamo atto, aspettiamo gli appuntamenti successivi affinché anche loro portino qualche idea. Fino ad oggi le uniche che ho sentito dire parlano di un termo valorizzatore per ogni provincia e non dicono nulla rispetto alla raccolta differenziata e al sistema delle discariche. Quindi aspettiamo davvero di poterci confrontare con loro, ma non aspetteremo in eterno, perché il PD è una forza responsabile, vorrà lavorare per dare risposte, anzi in un tempo molto breve, il più breve che sia consentito. Il piano dei rifiuti è una prospettiva di intervento, secondo la strategia della Regione, che nasce dalle proposte dei comuni, più che porsi in modo dirigistico con la definitiva collocazione. Proprio le proposte dei comuni, degli enti gestori, porterà poi la Regione nella fase successiva a definire i luoghi. Ma sono luoghi che, anche se arriverà un comitato del NO a dire non voglio quell'impianto, sono stati scelti su proposta del Sindaco e quindi non si creerà quel cortocircuito che aveva portato in passato la Regione a apparire come, diciamo, quell'ente che cala dall'alto delle individuazioni dei siti. E' quindi un meccanismo partecipato, innovativo, ma che sta riscontrando, anche vedendo l'interesse che per le informazioni chiedono da parte dei comuni, ottimo successo. Si è inaugurata in Via De Pucci a Firenze la mostra Uno Sguardo verso il Futuro, dedicata all'opera pittorica di Vinicio Berti, che ricorda l'artista, a 30 anni dalla scomparsa, l'esposizione, inserita nelle celebrazioni del centenario del grande artista, ricostruisce l'evoluzione pittorica del fondatore del gruppo dell'astrattismo. Io credo davvero che l'opera di Berti sia un'opera sempre più da salvaguardare, sempre più da far vedere a quanti più visitatori possibili e da proiettarlo e da prospettarlo anche in un futuro sempre più radioso e sempre più solido, appunto, nella considerazione artistica che merita. Ci sembrava importante anche riportare la mostra nella città di Berti, a Firenze, e quindi sfruttare questo luogo che il Consiglio regionale ha costituito, questa galleria vicino a Via Cavour, che è un luogo normale per ridare, in modo tale che tutta la città di Firenze potesse ridare un tributo a Berti nei cento anni dalla nascita. E quindi, insomma, è con orgoglio che riportiamo questa mostra nella sede del Consiglio regionale. Sì, la mostra di Vinicio Berti credo che sia uno degli eventi di quest'anno a Firenze, perché Berti è stato un grande artista, che ha guardato appunto al futuro e i suoi dipinti sembrano realizzati oggi, anche se è scomparso purtroppo da 30 anni. Il suo valore più bello è la leggerezza, quella che indicava Calvino come valore per questo millennio. Ecco, nei suoi quarti c'è una grande forza, ma anche una grande leggerezza. Sono davvero contento che il nostro spazio possa essere messo a disposizione di toscani illustri o di toscani che potranno fatto, potranno fare la storia della nostra regione. E spero che tanti cittadini, tanti cittadini fiorentini, toscani, ma anche tanti turisti possano venire a visitare questa mostra e a conoscere davvero un talento della nostra regione. Conferenza stampa Progetto Polis di Libera Toscana intervengono il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, e il Referente di Libera, Andrea Bigalli. Andare nelle scuole, parlare con le ragazze, con i ragazzi, trasmettere il messaggio che ognuno di noi può essere un argine, da quando si è piccoli a quando si ha un ruolo nelle istituzioni. Credo che sia qualcosa di bello, che abbiamo voluto insieme a tutto l'ufficio di Presidenza, senza distinzioni di colore politico, perché la lotta alla criminalità organizzata deve essere di tutti, non deve avere una connotazione politica. E ognuno di noi che è impegnato nelle istituzioni deve costruire le condizioni perché se è accaduto qualcosa sui nostri territori non accada mai più. Bisogna parlare veramente di una città educativa, di una serie di comunità e di collettività che riprendono in mano l'educazione dei più giovani. E questa prospettiva dell'educazione culturale, del rifiuto della cultura mafiosa, della cultura del privilegio, della cultura anche della corruzione politica, di un senso di legalità sempre più vago, ecco, queste sono tutte realtà fondamentali per costruire appunto futuro. Il progetto prevede quattro azioni principali, possiamo dire. La prima è quella della formazione all'interno delle scuole, quindi di percorsi laboratoriali all'interno delle scuole, che poi porterà alcuni degli studenti che hanno partecipato a fare dei campi di Libera nel territorio toscano. Abbiamo previsto quattro, cinque settimane di campi tra Firenze, Siena e la provincia di Pistoia. E poi abbiamo previsto un percorso di formazione per gli studenti del Parlamento della Regione Toscana, questo perché sono una rappresentanza importante, sono organo diretto della Regione Toscana e quindi secondo noi era importante investire su questo organo e parlare con loro e capire come loro possono diventare sentinelle di legalità all'interno del loro territorio e all'interno delle scuole di cui sono rappresentanti.